Signore e signori, questa sera abbiamo delle curiosità da andare a tirare fuori dal cassetto Beh, io passavo da questa parte, da queste parti così, mi sono soffermato un po' a guardare i tacchi Quanti chilometri avranno questi tacchi? Quindi, oddio, si è accorto, guarda, attenzione, è ancora integro la scarpa, anche quella dell'amica Loro vogliono lasciare l'anonimato, però fanno parte della pubblicità quella lì del lullo Le calze? Lei si sta lamentando delle calze, ma attenzione, non riprendiamola in viso, solo le scarpe Questa ragazza arriva dalla Germania, battitacco, battitacco, tacco, battitacco, l'avete riconosciuta? Bene, lei ha fatto la guerra Avevo pregato di non inquadrarla, ecco però, ecco, la trovate su un sito molto molto caldo, vero? Sul sito? Come si chiama il sito? Non lo so Come? Non sai dove va a finire Comunque, questa ragazza? No, sicuramente a casa qualcuno si divertirà Ascoltando e guardando le conferenze o le registrazioni che fa sto simpatico ragazzo E so il fatto che adesso però è ora di cambiare proiezione Niente, è arrivato il momento di cambiare proiezione Attenzione, facciamo vedere, facciamo vedere sempre la, no, fai vedere sulla proiezione La proiezione Girati un attimo Ecco, questa è la vita che tutti sperano di avere Una bella faccia da culatello Ciao, ciao Ciao